15.400 mascherine consegnate in una sola giornata. Gli agenti della polizia locale del capoluogo hanno distribuito a edicole e tabaccai tutte le protezioni a disposizione dell'amministrazione del mezza barba. Il numero totale arrivato a Pavia è in realtà di 21.000 mascherine, ma una fetta di 5.600 sono destinate a case di accoglienza, cooperative e denti per aiutare le categorie considerate più fragili e a rischio, ovvero persone con più di 65 anni o con pluri patologie. Un lavoro di mappatura che l'amministrazione comunale sta portando avanti in queste ore di concerto con ATS. Per quel che riguarda invece le mascherine arrivate da Regione Lombardia e destinate a tutta la popolazione, 10.400 sono state consegnate ai tabaccai, mentre 5.000 alle edicole. Nei prossimi giorni inoltre Federpharma procederà alla distribuzione nelle farmacie delle mascherine in suo possesso. Lo stesso comune di Pavia, come emerso durante una instant question del Partito Democratico nel corso dell'ultimo consiglio comunale, provvederà all'acquisto di altre mascherine per garantire ulteriori protezioni a disposizione della cittadinanza. C'era una grande domanda di mascherine a cui non era possibile dare risposta perché non se ne trovavano, ha commentato il sindaco Fabrizio Fracassi. Adesso attendiamo che ne arrivino altre per dare continuità alla distribuzione.